Buongiorno da Francesco Roselli, Gizzart. Oggi sono nelle campagne più orientali del comune di Calitri, precisamente al lago delle Canne, nella contrada chiamata il rimanente. Sono in compagnia anche di tre muli, probabilmente, perché a giudicare dal morso che mi voleva dare uno di loro, sono muli, soprattutto anche dall'aspetto. Siamo sul finire di novembre, in questa bella mattinata che segue la grande tempesta che c'è stata, soprattutto ieri, con emergenze meteo, distruzioni, un po' d'apertura e tanta pioggia. Oggi sono venuto qui per fare un paio di foto, anzi in realtà una, che mi serve per completare il libro che sto realizzando sul territorio calitrano. Il mio libro si chiamerà le terre, in latino, di Calitri. Terre di Calitri. Avevo una vecchia foto, non proprio buonissima, di questo luogo. Allora ho deciso di venire. Visto che stamattina doveva essere bel tempo, anche se è pieno d'acqua un po' dappertutto, però mi serviva per completare la sezione dedicata a questa zona e del territorio calitrano. Quindi la contrada, il rimanente. Io mi sto camminando lungo, mi sto avvicinando al lago chiamato delle Canne. Non ha nulla di particolarmente storico che merita di essere documentato, però ormai, o per un motivo o per un altro, è conosciuto. Spesso vengono anche persone qui a visitare. Ho deciso di includerlo nel mio libro, anche perché comunque tutto sommato doveva essere... In un tempo era previsto che doveva esserci un'area picnic, un centro di educazione ambientale, percorsi naturalistici, però che faceva parte anche del progetto Il Bosco di Castiglione, che poi è nella direzione nel quale sto filmando, un po' più a sud rispetto a dove ci troviamo. Questa è una zona di pascolo di vacche podoliche, come si può anche apprezzare da queste orme, oltre a quelle dei muli filmati in precedenza. Adesso sono un pochino contro luce, però si apprezza un po' anche la natura, abbastanza, piuttosto incontaminata. Qua pascolano cinghiali, lupi, cioè i lupi a caccia di cinghiali naturalmente, pascolano comunque le vacche. Diciamo che nonostante la siccità di quest'anno, e soprattutto la mancanza di quella che sembra un'evidente sorgente, ma l'acqua qui praticamente non manca mai, anche nei momenti più critici. Probabilmente deve essere sotterranea la sorgente o addirittura polliva, una polla, quindi emerge dal sottosuolo. Spero di non imbandonarmi troppo, cercherò di fare anche il giro del lago, che lo vedo comunque abbastanza ampio, anche se poi si nota che siamo un po' ancora al di sotto del livello. Questa è una contrada comunque molto ricca di acqua, anche perché poco più a valle di qua c'è la fontana del provolacchio, o dei provolacchi, detto un po' in italiano, che è la più grande di Calitri e soprattutto è quella che ha la maggior portata, litri secondo, del nostro territorio. E poi senza contare che un po' più a monte ci sono anche altre fontane che poi vanno a finire, comunque tutto in questo bacino legato al vallone del Pesco di Rago, dove mi trovo io, perché questo è il rimanente, guarda al Pesco di Rago, a Castiglione, e il torrente che poi finisce nell'Ofanto è il Pesco di Rago, che ci divide dal territorio di Aquilonia. Io sto un po', per fortuna ho le scarpe da trekking, quelle alte da montagna, perché il fango e l'acqua sono abbondanti ovunque. Adesso cercherò di andare anche oltre. Come si vede c'è molta vegetazione palustra, che dà poi il nome al lago, il lago delle canne. Adesso è bello anche il riflesso che si nota nell'acqua, di tutta la vegetazione intorno. E poi mi girerò un altro pochino. Qua siamo un po' ai compini, qua c'è ancora acqua che diciamo in abbondanza. Il circuito di rovi e di piante fa capire che qui c'è anche altra acqua che va verso sud, che probabilmente va ad alimentare altri canali di sorgenti. Vediamo, qua c'è abbastanza fango, però si può ancora camminare. Stamattina è la luce stupenda, un po' di nuvolette ingorniciano il cielo. Questa è una bella panoramica, che probabilmente è anche bella da fare come foto, però ho una cosa o un'altra. Continuo il mio percorso sulla sponda occidentale. Dietro a questi alberi, che sto vedendo anche il riflesso, c'è il culture, quindi diciamo è il nostro riferimento verso est. Adesso continuo a filmare, a percorrere la sponda del lago, con tutti questi veri flessi di alberi che ci iniziano a regalare i colori dell'autunno. E quindi diciamo ho scelto questo momento in cui c'è più acqua, meno erbacce per venire a documentarlo in maniera più idonea questo sito. Anche la fontana dei provolacchi rientrerà naturalmente con qualche cenno. Qualche cenno ci sarà anche per quella fontana che è la principale di Calitri. E dopo aver percorso, aver fatto tutto il periplo del lago, che come ho detto è anche in estate, nonostante che non sia proprio il momento ideale, perché ci sono un sacco di insetti, anche legati al fatto della pastorizia, ci sono un sacco di insetti. Però resta sempre un posto dove l'acqua abbonda tutto l'anno. Ci devono essere sorgenti molto importanti che vengono dallo spineto qui alla mia destra, d'aria di cola. Quindi con questo, che adesso qualche nuvola sta oscurando un po' il sole, mi dispiace di questo, io chiudo e rimando come sempre al mio canale YouTube che può essere trovato tranquillamente digitando CizzArt sul sito. E quindi lì potrete trovare tutti i firmati che io ho realizzato finora nelle campagne di Calitri e anche in altri luoghi, nelle vicinanze o comunque che ho visitato nell'ultimo anno, che ho iniziato a fare un po' di filmati dallo scorso inverno. Quindi chi vuole essere sempre aggiornato sulle mie pubblicazioni può tranquillamente iscriversi e verrà aggiornato ogni volta che pubblicherò qualche nuovo contenuto. Con questo chiudo da Calitri in questa bella mattinata di fine novembre. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video. Grazie!